Tieni, guarda che sto facendo il video. Dai! Antù, vuole salare? Eh, non posso dire. E beh, dai Mordè. Antù, a noi questo è due metri. Ho saputo che non c'è due. Due metri sono, e due metri sono, a noi è battuto un metro. Siete metri. Siete metri. Siete metri. Antù, vuole salare due? Eh, dove devi calcolare lui, dove devi calcolare. E che è un tre metri a lui, in un bel metro. In un bel 9.